Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono fatti, son portiere e attaccante, Oli e Benji, due speranze, loro vogliono sfondare, e campioni diventare, per poter così giocare, nella squadra nazionale. Nella squadra nazionale, con il Salena tirando i rigori, Benji Salena parando i rigori, Sembra partite, gli allenamenti, tanta è la classe, dei due contenti, Oli e il rigore, ogni pallone, Benji lo segue, con attenzione, e questa sfida, senza vincenti, fai due ragazzi felici e contenti, Oli e Salena tirando i rigori, Benji e Salena parando i rigori, Sembra partite, gli allenamenti, tanta è la classe, dei due contenti, Oli ricorre, ogni pallone, Benji lo segue, con attenzione, e questa sfida, senza vincenti, fai due ragazzi felici e contenti,